A un certo punto Monica, la fidanzata, patinatrice, gli fa una scenata di gelosia E allora Jimmy decide che è il momento di togliere il disturbo E porta Monica al Samarkand Hotel Lui va da altri amici a farsi una discreta quantità di ampetamine E alcol, ovviamente Poi torna al Samarkand Hotel da Monica O dalla morte Che quella notte forse abitano nello stesso motel Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti